Bene, fino adesso mi sento bene, sono al 100% bene fisicamente e devo giocare ancora per migliorare. Secondo me, per loro sì, per la nostra squadra no, non abbiamo avuto la fortuna di fare gol, però l'importante è non perdere una partita e fare punti. Però oggi era anche difficile perché c'era il vento, non era facile giocare questa palla in aerea. Sì, non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare a giocare così e guardare avanti perché il campionato, come l'ho detto, è lungo, dobbiamo fare punti. Sì, è vero che quando una squadra non perde le partite è molto importante per il gruppo e per la società, perché un punto non è male, dobbiamo sempre fare punti anche se non vinciamo, però dobbiamo prendere un punto e vincere.